Grazie presidente, io intervengo brevemente appunto per riportare il voto di astensione del Movimento 5 Stelle in quanto nonostante poi si condividano le motivazioni e le ragioni che hanno portato poi il Partito Democratico a firmare questa mozione e soprattutto appunto condividiamo anche l'opportunità di portare all'attenzione dell'Assemblea questa vicenda ma soprattutto all'attenzione delle istituzioni più alte di noi, questa vicenda che sicuramente deve avere una fine, deve avere una risoluzione, si spera in una risoluzione buonaria di un fatto ben descritto poi dal consigliere Peronzi. L'unica motivazione che ci porta all'astensione è connotato appunto nell'istituto stesso della cittadinanza onoraria, cioè ci si chiede in definitiva se effettivamente per portare all'attenzione sia dell'Assemblea ma di tutti gli organi preposti per la situazione di Zaghi sia l'appunto riconoscimento della cittadinanza della cittadinanza onoraria che appunto è un istituto previsto, ma questo insomma lo ricordo a me stesso perché sono sicuro che i colleghi lo sanno sicuramente meglio di me, che è un riconoscimento appunto concesso a un comune o uno Stato ad un individuo ritenuto legato a una città, a una determinata città perché appunto può essere riconosciuto, può essere dato e concesso appunto a un comune, quindi ci deve essere innanzitutto il legame oggettivo con la cittadinanza e poi un legame soggettivo, cioè che questo soggetto si deve essere distinto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, quindi diciamo si dà un riconoscimento ad un'opera eccellente a un soggetto, un comune appunto riconosce questa opera e questa opera che porta a distinguersi un soggetto, quindi nonostante poi le mitigazioni siano assolutamente condivisibili e che bisogna portare alto l'attenzione su questo evento e appunto ricordo a me stesso i miei colleghi che il fatto, la questione di Zaghi non è l'unica che poi ha portato a uno stallo anche internazionale con l'Egitto insomma, ci si chiede appunto e in tal senso appunto che poi si consegna il voto di astensione se effettivamente l'attribuzione della cittadinanza onoraria che poi a norma di legge sarebbe anche insomma un istituto non idoneo, ecco ci si chiede se questo sia poi lo strumento più corretto da utilizzare per portare l'attenzione. Grazie Presidente.